E' stato esce dai blocchi Fernandez con il fallo di Gerens Spisu inizia la sua partita con una tripla Poi il post di Cook riapre per Cavaliero, deve prendere il tiro Lo segna con spazio Daniele Cavaliero In post per Bilan, uno contro uno, del croato, in avvicinamento, morbido, talentuoso, Miro Bilan Cerca il post e lo trova con Piric, dentro, grande lettura per Dequan Jones Che va a schiacciare, salto per Dequan Jones che vuole provare a entrare nella partita 4 punti per lui e poi Bilan a schiacciare Sassari che in qualche modo riesce a salvare la palla, anzi no E' un nuovo contropiede di Trieste con Ermoie Peric Mentre qua Spisu va a realizzare Può riallungare dopo essere stato anche sotto i due lunghezze Gentile dalla media, l'errore, tap in di Evans Più 6 Jones prende e spara da 3 punti Non vuole mollare Dequan Jones L'intercetto di Elmore che non vuole mollare in questa partita Poi va a fare un clamoroso canestro contro la corrente Pierre Daniele Cavaliero, 7 secondi per il tiro Cavaliero si alza ancora dall'arco Daniele Cavaliero Andez 5 secondi, accetta tutti i cambi Sassari Cavaliero deve inventare la palla persa da Cavaliero Non arriva il fisco di 24 secondi Arriva invece il canestro di Stefano Gentile Cook, poi il pallone per Cavaliero Prova a tenere la palla Trieste e si butta dentro Dequan Jones Chi ha dentro il pallo?